Alberto Zanni, amare Bologna non è solo uno slogan, in realtà è qualcosa di più? Non è solo uno slogan, ma è il nome di un'associazione, un'associazione che è appena nata e diciamo ha come obiettivo quello di guardare alle elezioni del 2021, alle amministrative del 2021 e costruire dei programmi e dei progetti per la città. Quindi su tutti quelli che sono i temi che possono interessare i cittadini e la città stessa. Quindi non è uno slogan, ma è un vero e proprio progetto che si svilupperà nei prossimi otto mesi. Progetto aperto dunque a tutta la città, chi ha voglia di metterci un po' di impegno e di passione? Assolutamente sì, è un progetto aperto a tutti, a partire dal singolo cittadino che ha voglia di dare un contributo, ma non solo, ai comitati di cittadini che sono sorti nei vari quartieri per evidenziare le problematiche della zona, ai partiti, alle associazioni di categorie, a tutti coloro che vogliono portare un contributo per migliorare la nostra città. Zanni, lei non si è mai tirato indietro né a titolo personale né come associazione nei momenti in cui bisognava fare qualcosa di concreto per la città, è così? Sì, è vero e questa è un'altra dimostrazione proprio di questa cosa, cioè vogliamo scendere in campo con Fabitare e il comitato attacchiamoci a tram, abbiamo costituito questa associazione proprio per portare qualcosa di concreto ai nostri concittadini. Presidente, avete deciso di lanciare questa associazione, le ragioni partendo diciamo così da quello che è il vostro impegno ormai storico sul tema della mobilità? Sì, diciamo che le promesse le manteniamo, sono proprio i cittadini che fin dall'inizio ce l'hanno chiesto, cioè noi rappresentiamo poi i cittadini, come deve essere un'amministrazione comunale, non rappresentare solo una fetta di partito. Bologna deve tornare in mano ai suoi cittadini, ricordiamo che l'ultima amministrativa il 42% non è andata a votare e questo è molto grave, bisogna riportare i cittadini nella vita reale, vera. E questa può essere una strada? Questa è una strada sì, è una strada, perché comunque le realtà sono sulla strada, non sono su un computer o bisogna tornare a vivere come si faceva vent'anni fa, perché Bologna è bella così com'è, infatti noi il nostro slogan è sempre quello, Bologna insieme non si distrugge, non bisogna inventarsi nulla, bisogna tornare, ogni tanto bisogna fare un passo indietro. Mi sembra di capire che comunque rispetto a questa giunta, a questa amministrazione, a questo sindaco, il parere non sia cambiato in questi ultimi anni, cioè è negativo? Beh, è molto negativo, ma non lo diciamo solo noi bolognesi, lo dice il Sole 24 ore con le sue classifiche. Il sindaco Merola è una figura che dal nostro punto di vista non è mai stato vicino alla cittadinanza, ha voluto imporre un progetto obsoleto come il tram e in più ha cambiato idea due o tre volte sul passante, cioè il passante nord era già pronto, sarebbe stato perfetto, avremmo spostato il traffico fuori dalla città e improvvisamente ha detto facciamo il passante di mezzo, cioè il parere è molto negativo. Diciamo che è aperta a tutti l'associazione, però è chiaro che chi non condivide questi passaggi su tram, su passante, è ovvio che è automaticamente fuori. Certo, certo, nel senso, noi nasciamo perché manteniamo una promessa, noi abbiamo detto che se il sindaco non avesse indetto il referendum avremmo fatto una lista civica per far tornare Bologna ai bolognesi e per bolognesi intendiamo tutti, chi ci vive, chi ci lavora, chi c'è nato e lui non l'ha fatto e quindi noi siamo scesi in campo. Logicamente c'è chi è a favore di un progetto che vuole distruggere la nostra città non può confrontarsi con noi, questo è palesemente ovvio, anche perché devi avere il polso dei cittadini, come chiunque ha partecipato a questa giunta, è stato in questa giunta per questi dieci anni e non ha fatto niente, dal nostro punto di vista non può neanche candidarsi a fare il sindaco perché ha avuto dieci anni di tempo per fare le cose e non le ha fatte. C'è anche un candidato ideale, sindaco? Al momento ci stiamo lavorando, come abbiamo sempre detto, quando abbiamo qualche novità ve la diremo sempre, prima siamo impegnati con la civica, adesso ci impegneremo a formare la squadra, quando ci sarà il nome vi daremo anche il nome.